Grazie, buongiorno a tutti. Ci troviamo davanti a noi una sfida molto importante, una sfida fondamentale che stanno affrontando anche tutte le altre città d'Europa, del mondo, ovvero sappiamo bene che nei prossimi decenni gran parte della popolazione mondiale viverà nelle città. Il tema è proprio questo, come il rapporto tra città, abitanti e ovviamente il modo di spostarsi è cambiato profondamente anche se pensiamo agli ultimi 5-10 anni, alle nuove tecnologie che hanno permesso modalità di trasporto condivise e così via. E quindi è importante capire, chiarire come la città di Roma intende affrontare queste sfide che sono prossime, che già viviamo ogni giorno. E quindi il piano urbano della popolità sostenibile va proprio in questa direzione, cioè dare una visione, una prospettiva, un'idea di futuro alla nostra città. Un futuro sicuramente dove le infrastrutture siano al centro, le infrastrutture di trasporto su ferro, lo abbiamo già ricordato, e una città dove i cittadini appunto interagiscono e possono anche partecipare alla loro idea di città, lì da di futuro, proprio tramite il portale che adesso l'ingegner Brinchi ci illustrerà. Perché i cittadini, vivendo ogni giorno la città, molto spesso sono i primi conoscitori dei problemi e molto spesso sono coloro che hanno le soluzioni più a portata di mano. Per esempio, per quanto riguarda la parte della mobilità ciclabile, per realizzare tante delle corsie ciclabili che abbiamo progettato, che realizzeremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è bastato consultare i dati della European Cycling Challenge, la competizione, in senso buono, che si svolge a maggio, dove tutti i ciclisti tramite app possono chiaramente fare una gara a chi percorre più chilometri, ma quello allo stesso momento diventa una base di dati importante per capire gli spostamenti e quindi capire poi dove investire a livello infrastrutturale. Quindi questo concetto, questo processo ovviamente nel PUMS verrà applicato in maniera più ampia, più sistematica, più strutturata. Lo abbiamo detto, ci sono delle opere invarianti, cioè dei punti fermi di questa amministrazione, dove l'attività di progettazione già sta camminando anche a livello abbastanza spedito e poi ci saranno i cittadini che potranno proporre delle soluzioni. A me già oggi capita spesso, leggendo su internet, tra i vari blog, di cittadini informati e che hanno delle soluzioni molto intelligenti e molto importanti. E noi non vogliamo fare altro che cogliere queste idee e inserirli al piano di un'attività di pianificazione. Quindi mettendo insieme le migliori intelligenze di questa amministrazione, abbiamo detto a questo lavoro, ci stanno dedicando oltre a Roma Servizi per la Mobilità, Roma Metropolitane, Risorse per Roma, aziende molto importanti della nostra città, le quali magari erano state messe un po' in disparte negli ultimi anni, invece abbiamo saputo anche valorizzare le tante competenze interne che ci sono. E poi è importante anche questo PUMS perché c'è quasi un mix tra quello che potrebbe essere il vecchio, il recuperare l'esistente, appunto l'ha detto l'assessore Meleo, con la Roma Giardinetti. C'è un'infrastruttura che può sembrare vecchia e obsoleta, alla quale invece stiamo dedicando un futuro, alla quale stiamo dedicando una prospettiva e anche con un costo relativamente contenuto rispetto ai benefici che potrà portare. E poi invece c'è il futuro, il completamento eventuale della Metro C, vedremo con quali modalità e con quali tecnologie, perché è una sfida sicuramente importante che va portata avanti, perché anche questo colgo l'occasione del PUMS per sfatare un mito, si dice che questa amministrazione non sia attenta, non sia interessata a sviluppare le infrastrutture su ferro, invece è esattamente il contrario, vogliamo portare avanti le nostre opere di questa città, perché crediamo che senza infrastrutture su ferro la città non possa svilupparsi. Quindi assolutamente crediamo nelle metropolitane, non è vero che noi siamo contro le metropolitane, questo è un aspetto che ci tenevo a chiarire. Quindi appunto abbiamo detto le nuove linee tramviarie, il tram è molto importante perché come sta avvenendo per Viale Marconi, con il quale abbiamo avuto un assaggio di quello che potrebbe essere questo processo partecipato, abbiamo condiviso insieme ai cittadini le opzioni più interessanti per poter riqualificare Viale Marconi. Qui veniamo anche a quello che ci diceva l'assessore Montuori, cioè quando parliamo di mobilità, quando parliamo di trasporto pubblico, quando parliamo di infrastrutture per la mobilità sostenibile, in realtà andiamo a ridisegnare completamente i nostri quartieri. Ridisegnare i nostri quartieri vuol dire cambiare le modalità con le quali i cittadini interagiscono tra di loro, le modalità con le quali i cittadini interagiscono con il loro territorio. Perché se io attraverso un Viale a tutta velocità in automobile, sicuramente avrò meno possibilità di parlare con qualcuno, di scambiare due opinioni o semplicemente di vedere una vetrina di un negozio. Qui vediamo anche come la mobilità sostenibile sia fondamentale per il tessuto produttivo di questa città, fatto di piccole botteghe, di artigiani, di commercianti e così via. Pensiamo anche a un altro progetto molto sicuramente sfidante che stiamo portando avanti, cioè il prolungamento dell'attuale linea tramviaria che arriva a Termini, verso Piazza Vittorio, verso Largo Corrado Ricci e poi verso Via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia. Vediamo come lì quel tratto di Via dei Fori Imperiali con una linea tramviaria in realtà può completamente rinascere. Possiamo pensare a una completa penalizzazione, ad un'area completamente riqualificata attraversata da un tram. Quindi ecco, non voglio andare oltre, però vi voglio condividere con voi questo momento quasi storico, dove diamo un futuro, diamo una prospettiva alla nostra città e una prospettiva dove non è più l'automobile al centro, ma lo è il trasporto pubblico, lo sono le infrastrutture e su questo ovviamente poi sarà necessario anche la più ampia collaborazione con gli organi di governo superiori. Grazie. Grazie.